Foggia torna ad essere protagonista sia per quanto riguarda la natura che lo sport. Infatti il quartiere filistico dal prossimo 7 aprile ospiterà il Network Show, un evento dedicato agli appassionati della natura e dello sport all'aria aperta. Sette partiglioni espositivi, dieci ettari di aree esterne. Si gode del supporto comunale, della provincia, del Parco Nazionale del Gargano e dell'assessorato alle risorse agroalimentari della regione Puglia. L'avento sarà inaugurato dall'assessore regionale di Gioia. Sono in programma esperienze come arrampicata, zipline, percorsi bike, motocross e go-kart. Gli avanti della pesca sportiva potranno apprezzare gli ultimi modelli di armi e munizioni prodotti dai migliori marchi internazionali. Tra l'altro, grande attenzione sarà riservata al mondo della disabilità. Verrà messo a disposizione un intero spazio che potrà offrire il giusto supporto alle famiglie garantito da un'associazione che si occupa di queste tematiche. Milno Siena, speciale news.